Oggi vorrei fare una breve considerazione tra fotografia di moda, fotografia commerciale e fotografia editoriale che non sono la stessa cosa ma appartengono a segmenti di fotografia differenti ed ecco perché la fotografia commerciale, quella che definisco formale, vende un prodotto la fotografia di moda, quella che io definisco concettuale, vende uno stile di vita mentre infine la fotografia editoriale vende o meglio racconta una storia ovviamente prendiamo atto che i confini tra le varie tipologie sono piuttosto sfumati e per questo alle volte le distinzioni potrebbero non essere così nette di come le descrivo io in questo video tuttavia sono sicura che questo video ti aiuterà a distinguere facilmente i vari segmenti perché molto spesso vedo e percepisco che non si è a conoscenza o non si percepisce bene le differenze tra questi segmenti per prima cosa possiamo affermare che la fotografia di moda formale e la concettuale sono di solito raggruppati nella fotografia nella categoria fotografia di moda pubblicitaria mentre la fotografia editoriale tende ad essere una categoria a parte sebbene presenti anch'essa tratti piuttosto concettuale la ragione è che sia la fotografa di moda concettuale sia la formale vanno a vendere un prodotto mentre la fotografia editoriale è più incentrata sullo storytelling come accennavo prima la fotografia commerciale come abbiamo detto mira alla vendita di un prodotto quindi l'enfasi va su di esso ciò significa che l'illuminazione lo stile lo sfondo sono in genere molto semplice pensa agli scatti di un catalogo o di un lookbook ad esempio generalmente i modelli sono posizionati su uno sfondo uniforme con un'illuminazione molto semplice molto diffusa in cui tutto è molto ben illuminato e il make up solitamente e lo styling è molto basilare e naturale nella fotografia di moda o concettuale invece l'enfasi non sta più sui capi o meglio si sta anche sempre sui capi ma più che altro ci si concentra sul mood e lo stile e sullo stile dell'immagine i capi sono solo un accessorio per trasmettere un certo stile di vita e per questo possono anche non vedersi nella sua interezza perché il fine qui è quello di comunicare alla tipologia di donna uomo del brand ciò che esso vuole trasmettere con la sua collezione pertanto l'intera immagine è molto più complessa di solito qui le immagini sono ambientate lo styling e l'illuminazione diventano un po' più completi e ricercati al fine di ottenere immagini della giusta comunicazione infine la fotografia editoriale si avvicina molto di più alla fotografia di moda concettuale nel senso che come abbiamo detto la fotografia editoriale di solito non riguarda la vendita di un prodotto ma qualcosa di più grande nella fotografia di moda si idealizza uno stile di vita nell'editoriale invece è la storia che la fa da padrone come per la fotografia di moda la giusta illuminazione anche nella fotografia editoriale è molto importante per la giusta comunicazione ed è assolutamente fondamentale facciamo un esempio se dovessi realizzare un'editoriale con una ragazza in viaggio che viaggia se la storia riguarda la gioia di vivere, di viaggiare ovviamente l'illuminazione sarà molto brillante e i colori dovranno andare ad enfatizzare tutto questo stato d'animo se invece la storia riguarda i pericoli del viaggio allora le scelte da fare saranno diverse come un'illuminazione più drammatica e colori più spenti e desaturati questo per fare un esempio banale in conclusione il genere fotografico da utilizzare dipende dalle necessità e dai desideri del cliente se il cliente vuole vedere vuole vendere uno stile di vita associato al suo prodotto piuttosto che al prodotto stesso allora dovrai pensare a sviluppare immagini più concettuali se invece il cliente vuole solo mostrare i suoi prodotti ad esempio per il sito web o un lookbook allora dovrai realizzare fotografie commerciali e diciamo più tecniche in alternativa se il cliente, come potrebbe essere una rivista ha già un suo tema da sviluppare allora serve solo che le foto raccontino la storia attraverso una serie editoriale un buon fotografo di moda è in grado di fornire un ottimo lavoro in tutte queste aree non pensare che se sei bravo in un'area allora sei bravo anche negli altri segmenti perché ognuno di questi ha necessità di competenze specifiche sia nella preproduzione che nella produzione e infine anche nella postproduzione ciò è dovuto al fatto che ogni genere di fotografia qualsiasi esso sia richiede un diverso insieme di competenze e un approccio diverso